Che il Signore vi benedica tutti voi, miei cari fratelli e sorelle, che benedica tutte le persone che si collegano per vedere questa trasmissione e che il Signore benedica anche coloro che vedranno questo insegnamento in un secondo momento, perché ci sono tante persone che in questo momento non hanno tempo, stanno lavorando, stanno studiando. Tuttavia mi raccontano che poi si collegano e vedono l'insegnamento. Gli insegnamenti che stiamo dando con l'aiuto di Dio, ci sono tante persone, soprattutto le persone recenti, che non capiscono gli insegnamenti, ma io vi dico non preoccupatevi, mi dicono non ho capito, oppure ho capito qualcosa, qualcos'altro no, ho dei dubbi. Ma io vi dico, non preoccupatevi perché noi spesso ripetiamo gli insegnamenti, i concetti, li ripetiamo, perciò se voi non capite, questa volta capirete in un altro insegnamento. Tuttavia non vi angosciate, l'importante è andare avanti e leggere la Bibbia. Bisogna leggere la Bibbia, anche se non capiamo. Bisogna leggere, leggere, continuare a leggere, perché questo piace molto al Signore, che noi leggiamo la Bibbia. E noi vogliamo onorare il Signore, anche attraverso la lettura della Bibbia, attraverso la preghiera, attraverso i ringraziamenti, per tutto quello che Lui fa per noi. Io so che tutti voi state pregando per voi, per le vostre necessità, per le vostre afflizioni, tribulazioni, state pregando per i malati, state pregando per quelle malattie incurabili che mi raccontano, delle quali io non sapevo nemmeno l'esistenza. Ma Dio conosce tutto, perciò voi non vi angosciate perché Dio vi sta ascoltando, Dio vi sta vedendo, vede le vostre necessità, le vostre afflizioni. E il Signore, in qualsiasi momento, compirà il suo miracolo. Quindi oggi siamo allegri, contenti nel Signore e cantiamo adesso al Signore. Se volete cantare in piedi, fatelo, se volete sedervi, sedetevi, come volete. Apriamo il libro dei canti e cantiamo al Signore l'inno numero 196, che si intitola Maestro, si increspano le acque. Ricordiamoci che la storia dei Vangeli ci racconta che il Signore era in barca con i Suoi discepoli sul mare della Galilea. Arrivò all'improvviso un uragano, una forte tempesta, un forte vento, e i discepoli sentivano che la barca stava per affondare, pensavano di morire. Il Signore Gesù Cristo in quel momento stava dormendo e l'Apostolo Pietro si rivolge a lui e gli dice, Signore, Signore, salvaci perché stiamo morendo. E il Signore gli disse, uomo di poca fede. Il Signore Gesù Cristo si alzò, riprese i venti, cessò la tempesta e arrivò la calma. E questo inno allude a quell'accaduto che è successo sul mare. Quindi qualcuno compose questo inno che si intitola Maestro, si increspano le acque. Ma non solamente le acque fisiche, i tormenti, gli uragani, ma anche il nemico, il diavolo, che come un uragano viene contro di noi. Ecco perché questo inno è una simbologia, è una metafora, nella quale diciamo al Signore che anche noi stiamo soffrendo di questi uragani, di queste tempestà, di queste persecuzioni, non solamente a livello fisico, ma anche a livello spirituale. Noi abbiamo un nemico che ci fa tanto male. E adesso cantiamo al Signore questo inno, 196, Maestro, si increspano le acque. Maestro, si increspano le acque e la tempestà, nella sentire il pace nella sua sicurezza, lo potevano le acque, no vedi che qui perezzamore, puoi dormire così, quando il maro agitato No sabre profundo sepulcro aquí Los vientos, las ondas oirán tu voz Sea la paz Calma las iras del negro mar Las luchas del alma las hace cesar Y así la barquilla dova el Señor Hundirse no puede en el mar traidor Doquier se cumple tu voluntad Sea la paz, sea la paz Tu voz resuena en la inmensidad Sea la paz Maestro mi ser angustiado Te busca con ansiedad De mi alma en los antros profundos Se libra cruel tempestad Pasa el pecado a torrentes Sobre mi frágil ser Y perezco, perezco maestro O quiere me socorrer Los vientos, las ondas oirán tu voz Sea la paz Calma las iras del negro mar Las luchas del alma las hace cesar Y así la barquilla dova el Señor Hundirse no puede en el mar traidor Doquier se cumple tu voluntad Sea la paz, sea la paz Tu voz resuena en la inmensidad Sea la paz Maestro pasó la tormenta Los vientos no rugen ya Y sobre el cristal de las aguas El sol resplandecerá Maestro prolonga esta calma No me abandones más Cruzaré los abismos contigo Gozando bendita paz Los vientos, las ondas oirán tu voz Sea la paz Calma las iras del negro mar Las luchas del alma las hace cesar Y así la barquilla dova el Señor Hundirse no puede en el mar traidor Doquier se cumple tu voluntad Sea la paz Sea la paz Tu voz resuena en la inmensidad Sea la paz Benedetto e lodato il nome del Signore Che inno così bello e prezioso Che messaggio bellissimo che ci dà questo inno Veramente il compositore Si vede che era una persona ripiena di spirito Lo spirito del Signore quando sicuramente compose questo meraviglioso inno E perciò noi oggi lo cantiamo con tutto il nostro cuore Perché fu il vissuto del Signore Gesù Cristo a livello fisico Ma sono anche vissuti nostri a livello spirituale con il nostro persecutore Bene, potete sedervi se eravate in piedi E oggi parleremo di una parola oppure di una frase che troviamo spesso nella Bibbia La parola è il residuo Io so che le persone recenti O le persone che oggi ci vedono o ci ascoltano per la prima volta Io so che questo insegnamento Non sarà capito da queste persone Perché non sanno cosa significa questa parola residuo Mentre fratelli e le sorelle della Chiesa Che sono già da tempo in Chiesa Conoscono il tema Perché hanno letto molte volte Questa parola Il residuo Oppure i rimanenti E oggi spiegheremo Cosa significa questa parola Così ci renderemo conto Della misericordia di Dio La misericordia che il Signore ebbe con noi Questa parola Il residuo Significa Un gruppo di persone Rimaste Cos'è che succede allora? Nell'antichità Il Signore Prese la decisione Di riscattare Il popolo di Israele Dall'Egitto Ricordiamoci Che il popolo di Israele Giacobbe con i suoi dodici figli Che Traslocarono in Egitto E lì si popolarono Perché lì Il popolo di Israele Visse 430 anni E lì quindi Giacobbe Tutta la sua discendenza Si moltiplicò Ai 430 anni Il Signore Vole far uscire Il popolo di Israele Dall'Egitto Per consegnargli Una terra Fertile Prospera Dove poter godere Delle benedizioni Materiali Quindi il Signore Voleva dare Al popolo di Israele La terra di Canaan Chiamò Mosè E gli disse Di prepararsi Perché doveva Far uscire il popolo di Israele Dall'Egitto E portarlo Alla terra di Canaan Da lì in poi Dio comincia A dare ordini A Mosè Mosè fa uscire Il popolo di Israele Attraversano il Mar Rosso Arrivano nel deserto E lì nel deserto Rimangono Per 40 anni E lì C'è un luogo Chiamato Sinai Lì Dio consegna Le leggi O gli ordini A Mosè Dicendogli Quello che doveva fare Con il popolo Perché Dio voleva Innalzare un popolo santo Un popolo Che lo lodasse Lo glorificasse Lo onorasse Dio voleva questo Voleva che questo popolo Fosse speciale E diverso Da tutte le altre Nazioni Che Confinavano Con Israele Dio voleva Un popolo esclusivo Che lo avrebbe Lodato E glorificato E questo popolo Doveva essere L'invidia Di tutte le altre nazioni Quindi Il Signore voleva Questo popolo Che lo onorasse Lo glorificasse Lui voleva avere Questo popolo santo Perciò Il Signore Diede le leggi E degli ordini A Mosè Dicendo Come il popolo Doveva vivere Da lì in poi Per essere un popolo Santo E perfetto E così Gradire Dio Tuttavia Non fu così Nel deserto Il popolo Visse per 40 anni E durante questi 40 anni La Bibbia Racconta Che fece Arrabbiare Il Signore Per ben dieci volte Ecco Il popolo Tentò Il Signore Il popolo Offese Il Signore Peccando Peccando Di idolatria Mormorando Contro Mosè Mormorando Contro Dio Adorando idoli Credendo In altre cose In questo modo Offesero Il Signore E il Signore Disse Questo popolo Mi ha tentato E Dio Quindi si Arrabbiò Quando questo popolo Viveva ancora Nel deserto Come vi ho detto Il popolo Visse 40 anni Nel deserto E Dio Disse A Mosè Io distruggerò Questo popolo Lo raderò Dalla faccia Della terra Perché mi ha Mi ha offeso Mosè Prega Il Signore Intercede Per il popolo E dice a Dio Di avere misericordia Del popolo E di perdonarlo E quindi Il Signore In un certo modo Perdonò Tutti coloro Che erano Nati Da quel popolo Di Israele Alla generazione nuova I giovani Ecco Il Signore Risparmiò I giovani E i bambini Mentre gli adulti Di Israele Morirono tutti Nel deserto Sì Mosè si interpone E gli dice Signore Tu non puoi Arrabbiarti Così tanto Non puoi Perdonare Questo popolo Che stava Vivendo schiavo In Egitto Tu l'hai Fatto uscire Dall'Egitto Adesso cosa diranno Gli egiziani Cosa diranno Tutte le altre nazioni Che Hanno saputo Che Hai liberato Il popolo Di Israele Dall'Egitto Per portarlo A miglior vita Per portarlo In una terra Migliore Ma adesso Vedono Che tu Li hai castigati Li hai fatti morire Di fame Nel deserto Cosa diranno Queste nazioni Che tu Hai fatto uscire Del popolo Di Israele Per farlo morire Nel deserto Quindi questo Era il modo Di Mosè Di convincere Il Signore A ritrattare E Mosè Pregava Il Signore Per poter Perdonare Il popolo Di Israele Così è successo Dio perdonò I giovani E i bambini Mentre gli adulti Morirono Tutti Nel deserto Oltretutto Dio si ricordò Che aveva fatto Un patto Ad Abramo Dicendogli Che sarebbe Stato il padre Di tante nazioni E che la sua Discendenza Sarebbe stata Come le stelle Del cielo E la sabbia Del mare Quindi Dio Si ricorda Anche di questa Promessa Di questo patto Ecco perché Dio risparmia I giovani E i bambini E comincia Quindi A mettere Da parte Un gruppo Di persone Comincia Ad appartare Questo gruppo Di persone Che divenne Il residuo Sebbene anche Questo residuo Aveva peccato Ma il Signore Siccome aveva fatto Una promessa Ad Abramo Che sarebbe stato Padre Di tante nazioni E che la sua Discendenza Avrebbe regnato Per sempre Allora il Signore Dovette Risparmiare Un gruppo Un gruppo Di persone Perché da quel Gruppo Di persone Sarebbe arrivato Il Messia Il Salvatore Gesù Cristo Che sarebbe arrivato In futuro Ecco Dio quindi Dovette Appartare Un gruppo Un residuo Dei rimanenti Che furono Sempre protetti Affinché non fossero Sterminati Totalmente Ma che arrivassero Fino all'ultimo E cos'era Quell'ultimo Erano Migliaia di anni Dopo Quando arrivò Il Signore Gesù Cristo E il Vangelo Perché il Signore Gesù Cristo Proviene Da quel gruppo Di rimanenti Quel re perfetto Sempre annunciato Dai profeti Perciò il Signore Protesse Questo gruppo Questo residuo Questo gruppo Di rimanenti E oggi quindi Leggeremo Alcuni versi Che ci parlano Di questi rimanenti Cosicché anche noi Possiamo capire meglio Chi erano Questi rimanenti Quando voi Leggerete la Bibbia E troverete Questa parola Il residuo Già capirete Di cosa si tratta E di quello Che il Signore Voleva dire Cioè Era un gruppo Rimasto Protetto Dal Signore E come vi ho detto Il Signore Risparmiò Questo gruppo Nonostante Avesse peccato Ma lo risparmiò Perché il Signore Dovette rispettare Il patto Che fece Con Abramo Quindi da questo Gruppo rimasto Provenne Il Signore Gesù Cristo Tanti re E tanti governanti Apriamo la Bibbia Nel libro di Estra Capitolo 9 Vi ho raccontato Prima la storia Del popolo Di Israele Quando visse Nel deserto E dopo Quarant'anni Nel deserto Mosè morì E gli successe Giosuè E Giosuè Riuscì a portare Quel gruppo Di residuo Di rimanenti Di rimanenti Alla terra Di Canaan Sebbene dovette Combattere Con tanti re E con tanti governanti Ma Dio Giudici Arrivano i re Però questi re Alcuni Facevano la volontà Di Dio Mentre alcuni Sgradivano Dio Questa è la storia Di questo residuo Tra disubbidiente Pagano Pagano Che commette Abomini E infatti Il Signore Castigò Il popolo Di Israele Inviando L'esercito Di Babilonia Distruggendo La città Di Gerusalemme Il Tempio Che Salomone Aveva costruito Fu incendiato E la gente Moriva Alcuni di fame Alcuni di peste Alcuni morivano Per mano Di spada Tuttavia Il Signore Ebbe misericordia Di un gruppo Di persone Chiamato Il residuo Cioè Un gruppo Di persone Che fu portato A Babilonia Come schiavo Quindi Questi rimanenti Furono portati Schiavi A Babilonia Tra questo gruppo C'era Daniele E i suoi amici C'era anche Il profeta Geremia Il profeta Ezechiele Anche essi Furono portati Come schiavi A Babilonia Più o meno Furono portati A Babilonia Cinquemila Persone E queste persone Rappresentavano Quel residuo Quel gruppo Rimasto Quando arrivarono A Babilonia Perirono Perché vissero Settant'anni Tanti di loro Perirono Poi Dopo settant'anni Il Signore Permise Al popolo Di ritornare A Gerusalemme Ricostruire La città Ricostruire Altri Templi Nuovi E infatti Dio Permette A destra E a Neemia Di viaggiare Di nuovo A Gerusalemme Di ritornare A Gerusalemme Dopo settant'anni Dopo che furono Anche essi A Babilonia Quindi noi adesso Siamo in Estra Capitolo 9 Vi ho appena raccontato Che anche Estra Disse per settant'anni A Babilonia Perché anche egli Apparteneva A quel gruppo A quel residuo A quel gruppo Di rimanenti Ha partato Dal Signore Perché per mezzo Di questo gruppo Di questo residuo Sarebbe arrivato Il Messia Il Salvatore In futuro Ecco perché Qui in Estra Capitolo 9 Si racconta La storia Di quando Sono ritornati A Gerusalemme Cominciano A ricostruire Le mura Della città Cominciano A edificare Nuovamente Il Tempio E Estra Prega Il Signore Ringrazia Il Signore Però Nel verso 8 Del capitolo 9 Di Estra Appunto Estra Sta pregando Il Signore Lo sta ringraziando Per questa opportunità Di essere Ritornato A Gerusalemme Per ricostruire Nuovamente La città E innalzare Un altro Tempio Però nel verso 6 Dice Estra Nella sua preghiera Oh mio Dio Io sono confuso E mi vergogno Di alzare La mia faccia A te O mio Dio Poiché le nostre Iniquità Si sono moltiplicate Fin sopra Il nostro capo E la nostra colpa È giunta Fino al cielo Dai giorni Dei nostri padri Fino al giorno D'oggi Siamo stati Grandemente Colpevoli E a motivo Dandoci Un residuo E dandoci Un asilo Nel suo santo Luogo Cioè Gerusalemme Perché il nostro Dio Illuminasse I nostri occhi E ci desse Un poco di ristoro Nella nostra schiavitù Certo perché loro Furono Schiavi Per 70 anni A Babilonia Quindi Qui sta parlando Di questo residuo Di questo gruppo Di rimanenti Che ricevette La grazia di Dio Perché Dio Fa ritornare Nuovamente Questo gruppo A Gerusalemme Passiamo al verso 13 Continua la preghiera Di Estra E dice Ma dopo tutto Quanto ci è venuto Addosso A motivo Delle nostre azioni Malvagie Perché Estra Sta riconoscendo Il peccato Che avevano commesso Davanti al Signore Quindi A motivo Delle nostre azioni Malvagie Ed è la nostra Grande colpa O peccato Perché tu O Dio nostro Ci hai punito Meno di quanto Meritavano Le nostre colpe E ci hai lasciato Un residuo Come questo Come questo Era lui Estra Con tutte le persone Che erano ritornate A Gerusalemme Per ricostruire La città E per ricostruire I templi Costruire anche Delle case Per far ripopolare La città La città Di Gerusalemme Quindi Estra Riconosce Il Signore La sua misericordia E gli dice Signore Tu Ci hai punito Meno di quanto Meritavano Le nostre colpe Perché? Perché ci hai lasciato Un residuo Come questo Un gruppo di persone Appunto Che ricostruisse La città Dando questa Nuova opportunità Quattordici Torneremo Noi di nuovo A violare I tuoi comandamenti E a unirci In matrimonio Con popoli Che commettono Queste abominazioni No che non sia così Diceva Estra Non ti adireresti Contro di noi Fino a distruggerci Senza lasciare Più alcun residuo Superstite Quindi Estra Dice Signore Se anche questo residuo Infligge La tua legge E non ti Non ti rispetta Allora la tua Misericordia Cesserà per sempre Ma non sarà così Perché la tua Misericordia Permetterà Che questo residuo Rimanga in piedi Passiamo adesso Ad Isaia Che si trova Dopo i salmi Isaia Capitolo 10 Dopo i salmi Troviamo Isaia Capitolo 10 Verso 21 E poi verso 22 Anche qui ci parla Del residuo Di questo gruppo Di rimanenti Qui parla Il profeta Isaia È una profezia È la parola Del Signore Tramite la bocca Di Isaia Che parlava Al re di Israele Di quell'epoca E nel verso 20 Dice In quel giorno Avverrà Cioè in futuro Avverrà Che il residuo Di Israele E gli scampati Della casa Di Giacobbe Non si appoggeranno Più su colui Che li colpiva Ma si appoggeranno In verità Sull'Eterno Vuol dire Che non si sarebbero Più appoggiati Alle nazioni Straniere E soprattutto Ai Babilonesi Ma si appoggeranno In verità Sull'Eterno Il Santo Di Israele Quindi Si sarebbero appoggiati Su Dio Il Santo Di Israele Questo residuo Diceva Ritornerà Ritornerà Da dove? Ritornerà Da Babilonia Perché Isaia Stava profetizzando Di questo Cioè Che un residuo Sarebbe portato Schiavo A Babilonia E dopo 70 anni Questo residuo Questo gruppo Di rimanenti Sarebbero ritornati A Gerusalemme Per ricostruire La città E questo residuo Questo gruppo Di rimanenti Sarebbe stato Protetto Dal Signore E Isaia Parla di questo Di questo residuo Di questo gruppo Scampato Dalla casa Di Giacobbe Che non si appoggerà Più A colui Che li ha colpiti Cioè All'esercito Di Babilonia Ma al Signore 22 Poiché Anche se Il tuo popolo Israele Fosse Come la sabbia Del mare Solo un residuo Tornerà Lo sterminio Decretato Farà traboccare La giustizia Infatti Il Signore L'Eterno Degli eserciti Compirà Lo sterminio Decretato In mezzo A tutta la terra Perciò Così dice Il Signore L'Eterno Degli eserciti O popolo mio Che abiti in Sion Non temere L'assiro Che ti percuote Con la verga E alza Il suo bastone Contro di te Come fece l'Egitto Quindi qui il Signore Comincia a fare Delle promesse Meravigliose E dice Che in futuro Avrebbe inviato Il Messia Una grande Benedizione Che tutti Avrebbero goduto Della mano potente Di Dio Perché? Perché il gruppo Sarebbe rimasto Con quel gruppo Con quel Con quel gruppo Di rimanenti Con quel residuo Quel gruppo Che avrebbe goduto Di tutte le promesse Che Dio Aveva dato Già Nell'antichità Attraverso i profeti A partire da Mosè Dio aveva sempre promesso Tante benedizioni Per il suo popolo Prometteva meraviglie Ma siccome il popolo Fallì Allora cosa fece Il Signore Mise da parte Un residuo Un gruppo Di rimanenti E a questo gruppo Parlava E diceva Voi Voi godrete Della mia presenza Un giorno Voi godrete Delle mie benedizioni Godrete Del pane Dell'acqua Della vita Voi Entrerete Dalla porta Quella porta Che conduce Alla vita eterna Quella porta Era il Messia Il Salvatore Che sarebbe Arrivato Lui sarebbe stato Un re giusto Perfetto Che avrebbe governato E lui Quel re perfetto Avrebbe compiuto Quello che Dio Voleva già dall'inizio Cioè Formare Un popolo santo Perfetto Prescelto E solamente Il Messia Avrebbe potuto Compiere questa cosa Cioè innalzare Questo popolo santo Tutte queste cose Furono già anticipate Da Ezeia Geremia Ezechiele Erano profeti Che parlavano Al popolo A questo gruppo A questo gruppo Di rimanenti Che ascoltavano Il Signore Tuttavia Tuttavia c'era anche Un gruppo di persone Dure di cuore Che non ascoltavano Queste parole Profetiche Che annunciavano La venuta Del Signore Gesù Cristo E le sue Benedizioni Passiamo Al capitolo Undici Di Isaia E nel verso Dieci Qui parla Il Signore Gesù Cristo Del re Che sarebbe Arrivato In futuro E qui il Signore Parlava appunto Attraverso Il profeta Esaia Purtroppo Non abbiamo Così tanto tempo Per leggere Tutti i versi Nei quali si parla Del Signore Gesù Cristo Di quello Che Lui Aveva riservato Per il gruppo Rimasto Per esempio In 6 dice Il lupo Abiterà con l'agnello Il lupo E l'agnello Rappresentavano Gli esseri umani E diceva Il leopardo Giacerà col capretto E entrambi Esseri umani Il vitello Il leoncello E il bestiame Ingrassato Staranno insieme E un bambino Li guiderà Così dice Questo significa Che quel gruppo Rimasto Avrebbe goduto In futuro Del Salvatore Del Messia Perché il Messia Avrebbe trasformato I cuori Lui si avrebbe permesso Di trasformare Le persone Avrebbe cambiato Le persone Dando loro La possibilità Di vivere In santità E in perfezione Dando loro La possibilità Di pulire I cuori Di far uscire Dal loro cuore Idolatria Malvagità Invidia Rancore E trasformare Quelle bestie Come il lupo E l'agnello Che appunto Erano le caratteristiche E il temperamento E il temperamento Dell'essere umano Con un cuore Duro E avrebbe trasformati In animali Mansueti Come una colomba Una pecora Così sarà Il mio gruppo Residuo Il mio gruppo Rimasto I rimanenti Che io salverò In futuro Ma non solamente I rimanenti C'era E ci sono Altri versi Nei quali Queste benedizioni Erano rivolte Anche ai gentili I gentili Erano tutti Quei popoli Allontanati Dal piano Del Signore Perché Perché il Signore All'inizio Aveva scelto Il popolo Di Israele Quindi tutte Le altre nazioni Si consideravano Escluse dal piano Di Dio E fra loro I gentili Ma il Signore Sapeva che Anche tra i gentili C'erano dei cuori Disposti A cambiare Ad essere trasformati Verso 9 Quindi Abbiamo visto Che gli esseri umani Sono paragonati Agli animali E dice Tutti questi animali Non faranno del male Né distruggeranno Il mio santo monte Cioè la Chiesa Poiché il paese Sarà ripieno Della conoscenza Dell'Eterno Come le acque Ricoprono il mare In quel giorno Avverrà Che la radice Di Isai Si esergerà Come una Bandiera Per i popoli Le nazioni Lo cercheranno E il luogo Del suo riposo Sarà glorioso Questa radice Di Isai È il Signore Gesù Cristo Undici In quel giorno Verrà che il Signore Stenderà la sua mano Una seconda volta Per riscattare Il residuo Del suo popolo Il residuo del suo popolo Supestite Che si era sparso Poi nella Siria Nell'Egitto Pators Etiopia Elam Sinar Amat E le altre isole E le altre isole Quindi Nel verso 16 Dice E quel gruppo Rimasto Ancora in vita E questo gruppo Avrebbe goduto In futuro Del regno Del Signore Gesù Cristo E il gruppo Rimasto Fu il primo A godere Del Vangelo Del Signore Gesù Cristo E quel gruppo Avrebbe visto I miracoli E le meraviglie Che il Messia Avrebbe realizzato Durante la sua manifestazione Questo è il gruppo Rimasto Questi rimanenti Che il Signore Lasciò Da parte Del popolo Di Israele Antico Quando poi Il Signore Gesù Cristo Si manifestò Lui trovò Questo gruppo Di rimanenti Questo gruppo Rimasto Che lo ascoltava E noi Ci rendiamo conto Che La gente Semplice Era quella Che credeva Nel Signore Leggendo la Bibbia Ci rendiamo conto Che coloro Che avevano Un cuore disposto E semplice Ascoltavano Le predicazioni Del Signore Gesù Cristo Mentre coloro Che avevano Un cuore superbo Non lo ascoltavano Il Signore Gesù Cristo Ma coloro Che avevano Questo cuore Superbo Non appartenevano A quel gruppo Rimasto Anche Maria Giuseppe I genitori Fisici Umani Del Signore Gesù Cristo Appartenevano A quel gruppo Rimasto Loro erano Parte Di quel gruppo Che Dio Aveva scelto E protetto E protetto Perché il Signore Aveva detto Che il Messia Sarebbe giunto Da questo gruppo Di rimanenti E In questo gruppo Di rimanenti C'era anche Davide Che morì Migliaia di anni Prima Della venuta Del Signore Gesù Cristo Ma dal quale Proveniva La progenie Del Signore Gesù Cristo Ecco Il Signore Protesse Questo gruppo Cominciò A predicare Il suo Vangelo Cominciò A scegliere Da questo gruppo I suoi discepoli I suoi apostoli Conforme Alla promessa Del Signore Perché il Signore Disse sempre Che avrebbe Protetto Questo gruppo Questo fu Un giuramento Che fece Il Signore Con Abramo Adesso Leggiamo In Isaia Capitolo 28 Capitolo 28 Di Isaia Verso 5 Nel verso 5 Dice Qui Il Signore Gesù Cristo Stava profetizzando Sempre tramite La bocca Del profeta Isaia E Parlava Sempre Al popolo Parlava Al gruppo Rimasto Parlava Della venuta Del Messia E Nel verso 5 Dice In quel giorno L'Eterno Degli eserciti Cioè in futuro Quando sarebbe arrivato Il Signore Il Signore Il Signore Poi dice Nel 6 Sarà anche Sarà anche Uno spirito Di giudizio Per colui Che siede In giudizio E la forza Per quelli Che fanno indietreggiare La battaglia Fino alla porta Quindi Il Signore Il Signore Veniva Veniva ad essere Un fuoco consumante Per coloro Che lo rifiutavano Ma Per il gruppo Rimasto Cioè Quel gruppo Che lo accettarono E gli credettero Per questo gruppo Divenne una corona Di gloria Uno splendido Diadema E uno spirito Di giudizio Che benedizione Per quel gruppo Rimasto Per esempio Se voi Volete conoscere La storia Del gruppo Rimasto Che fu Schiavo A Babilonia Per 70 anni Poi Il Signore Lo fece Ritornare a Gerusalemme Dovete leggere I libri Di Neemia E di Esra Lì trovate La storia Di questo gruppo Dei rimanenti Di quello che Il Signore Disse a questo gruppo Dicendogli In futuro Il Messia Si manifesterà Quindi Questo gruppo Fu protetto Dal Signore Il Signore Ebbe misericordia Di questo gruppo Sebbene Anche quel gruppo Peccò Sebbene Anche quel gruppo Fu disubbidiente Ma il Signore Dovete tollerare Andare oltre Perché il Signore Aveva promesso Ad Abramo Aveva fatto Un giuramento E la Sua Parola Doveva essere Compiuta Adesso passiamo Sempre In Isaia Il Capitolo 37 Vediamo Cosa ci dice Di questo gruppo Isaia Capitolo 37 Verso 4 Anzi Leggo rapidamente Dal verso 1 Che dice Or Quando il re Zechia Qui Siamo nell'epoca Del re E parla Il profeta Isaia Che sta profetizzando È il re Di Israele Re buoni E re cattivi La profezia Era per loro Però Dio Parlava Per il futuro E dice Ora quando il re Zechia Odì questo Si stracciò Le bestie Si coprì Di sacco Ed entrò Nella casa Dell'Eterno Perché il Signore Aveva detto Tramite Isaia Ad Zechia Che sarebbe morto Che appunto E Zechia Sarebbe Da lì a poco Morto Quindi il re Si angosciò Quando seppe La notizia Che doveva Prepararsi Perché Sarebbe morto Due Quindi mandò Eliakim Prefetto Del palazzo Shebna Il segretario E i più anziani Dei sacerdoti Coperti di sacco Dal profeta Isaia Figlio di Amoz I quali Li dissero Così dice Zechia Questo giorno È un giorno Di angoscia Di rimprovero Di vergogna Perché i figli Stanno per nascere Ma non c'è forza Per partorirli Vuol dire Che qui Gerusalemme Si era consegnata Al peccato E agli abomini Ecco perché Era paragonato Ad una nascita Cioè Questi figli Sono arrivati Al punto di nascere Ma chi Li deve dare alla luce Non ha forza Quindi Questi figli Non sarebbero mai nati Sarebbero tutti Morti Insieme Alla madre Lei Perché non poteva Aver figli E loro Perché non sono Riusciti A nascere Questo Era un modo Simbolico Metaforico Con il quale Dio parla A quei re Tramite Isaia Dice Tramite Isaia Quello che sarebbe Accaduto A Gerusalemme Perché Perché tutti Avevano peccato E perciò Tutti Sarebbero stati Distrutti Dall'esercito Di Babilonia Solamente un gruppo Di rimanenti Sarebbero stati Protetti E portati Come servi Schiavi A Babilonia E poi dice Nel verso Numero 4 Forse l'Eterno Il tuo Dio Ha udito Le parole Di Rabzakeh Che il re Di Assiria Suo Signore Ha mandato a dire Per insultare Il Dio vivente E lo castigherà A motivo Delle parole Che l'Eterno Il tuo Dio Ha udito Innalza dunque Una preghiera Per il residuo Che ancora rimane Quindi Il re Zechia Era preoccupato Perché tutti Erano Nel peccato Veramente C'era tanto peccato Sapeva che non c'era Niente da fare Che Dio Era arrabbiato Che avrebbe inviato La distruzione Erano coscienti Di questo Tuttavia Sapevano Che c'era un gruppo Rimasto Perché? Perché Dio Parlava sempre Attraverso i profeti Di questo residuo Di questo gruppo Di rimanenti Allora Zechia diceva Prega per questo residuo Che ancora rimane Cinque Così i servi Del re Zechia Si recarono Da Esaia Affinché Esaia Potesse pregare Dio E chiedesse a Dio Misericordia Perché sembrava Che questo re Zechia Si pensava Che fosse Parte del gruppo Rimasto Quindi Disse Chiedi Ad Esaia Di pregare Per il residuo Che rimane Passiamo adesso A Geremia Capitolo 23 Geremia Capitolo 23 Verso 1 Che dice Guai ai pastori Che distruggono E disperdono Il gregge Anche questa Era una profezia Profezia di Geremia Perché quando La città di Gerusalemme Fu presa da sedio Dall'esercito Di Babilonia Geremia Era lì A Gerusalemme Con il popolo Ma Geremia Era stato Incarcerato Messo In una cisterna Ma poi Dio lo salvò Da questo massacro E dice Guai ai pastori Che distruggono E disperdono Il gregge Del mio pascolo Dice l'Eterno Quando qui Il Signore Parla dei pastori Si riferisce Il re Ai governanti Che distruggono E disperdono Il gregge Cioè Il popolo Le persone comuni Quelle persone Che amavano Che credevano Che avevano fiducia In Dio Ma Che erano stati portati In vie distorte Adorando degli idoli Perché ricevevano Dei cattivi esempi Da parte Dei governanti Quindi qui Il Signore Dice guai A questi pastori Guai a questi re A questi governanti Guai a quei falsi sacerdoti Guai a quei falsi profeti Che hanno condotto Il mio popolo Nell'errore E nell'inganno Perché saranno Castigati Due Perciò così Dice l'Eterno Il Dio di Israele Contro i pastori Che pascolano Il mio popolo Voi avete disperso Le mie pecore Le avete scacciate E non ne avete avuto cura Ecco Io vi punirò Per la malvagità Delle vostre azioni Dice l'Eterno Ma radunerò Il resto Delle mie pecore Da tutti i paesi Quindi qui Tramite Geremia Il Signore Stava già annunciando Che sarebbe arrivato Il re di Babilonia Con il suo esercito A distruggere Tutta la città Che tutti Sarebbero morti Eccetto Un gruppo Di rimanenti E dice Ma radunerò Il resto Delle mie pecore Da tutti i paesi Dove le ho scacciate E le riconderò Ai loro pascoli E saranno feconde E si moltiplicheranno Ma quando si sarebbe Compiuto Questo verso 3 Si sarebbe Compiuto Con l'avvenuta Del Messia Con l'avvenuta Del Signore Gesù Cristo Il quale Avrebbe ricondotto Queste pecore Ai loro pascoli Per moltiplicarsi Quattro Costituirò Su di esse Su queste pecore Pastori Che le pascoleranno Quindi sta già parlando Dell'epoca del Vangelo Perché nell'opera Evangelizzatrice Il Signore Avrebbe collocato La sua gente Apostoli Profeti Evangelisti Maestri Affinché Potessero Pascere Le pecore Affinché Potessero Condurre Queste pecore Nel cammino Retto Nel cammino Della perfezione Quindi I pastori Erano i credenti I seguaci Del Signore Gesù Cristo Che avrebbero Pascolato Quel gruppo Residuo Quelle pecore E poi dice ancora Non avranno più paura Né spavento Non ne mancherà Neppure una Dice l'Eterno Ecco I giorni vengono Dice l'Eterno Nei quali Susciterò A Davide Un germoglio Giusto Ma Davide Era già morto Da migliaia di anni Quando vende Il Signore Gesù Cristo Tuttavia Dice ancora Il Signore Susciterò Da Davide Un germoglio Giusto Cioè Gesù Cristo Che regnerà Da re Prospererà Ed eserciterà Il giudizio E la giustizia Nel paese E chi fu Questo re Il Signore Gesù Cristo E chi ne godette Il gruppo Di rimanenti Sei Nei suoi giorni Cioè Nei giorni Di quel re Santo Giuda La regione Sarà salvato E Israele Dimorerà Al sicuro Ma questo Israele Si riferisce Al gruppo Supestiti Questo sarà Il nome Con cui sarà Chiamato L'Eterno Nostra Giustizia Perciò Ecco I giorni Vengono Dice l'Eterno Nei quali Non si dirà Più Per l'Eterno Vivente Che ha fatto Uscire I figli Di Israele Dal paese D'Egitto Ma Diranno Per l'Eterno Vivente Che ha fatto Uscire E ha Ricondotto La progenie Della casa Di Israele Dal paese Del nord E da tutti I paesi Dove li avevo Scacciati Quindi qui Parla del gruppo Di rimanenti Che il Signore Avrebbe raccolto Dal paese Del nord E da tutti I paesi Dove li avevo Scacciati Ed essi Dimoreranno Nel loro paese Ma non un paese Fisico Ma Nella congregazione Del Signore In quella Congregazione Il Signore Avrebbe Innalzato La sua chiesa Tramite Questo gruppo Residuo Tramite Questi rimanenti Insieme Anche ai gentili Però Parliamo Soprattutto Di questo Gruppo Rimasto Oggi Quel gruppo Che Dio Protesse Dall'antichità Quel gruppo Che Servì A far A far Venire Il Signore Gesù Cristo A far apparire Il Messia Il Signore Oltretutto Per formare La sua chiesa E qui E qui viene definita Paese Terra Aveva bisogno Di un gruppo Di persone E quindi Il Signore Si manifestò E fece uscire La sua chiesa Da questo gruppo Residuo Da questo gruppo Di rimanenti Non dal popolo Di Israele Ma da questo gruppo Che si era sparso A nord Del paese Di Israele E in tutti Gli altri paesi Ma il Signore Gli ha raccolti Gli ha riuniti Per formare Il Tempio Del Signore Un tempio Non più fisico Ma un tempio Spirituale E quando viene Il Signore Gesù Cristo Questo gruppo Residuo Questo gruppo Di rimanenti Comincia A convertirsi E questo gruppo Si sta convertendo Anche oggi Ancora oggi È vivente Ed è vigente Questo gruppo Di rimanenti Che si sta convertendo Perché ci sono Tante persone Che devono essere Riscattate Per il Regno Dei Cieli Quindi il Signore Gesù Cristo Cominciò Da questo gruppo Rimasto Antico Ad insegnare Il suo Vangelo E cominciò A manifestarsi In essi Ecco Questo gruppo Avrebbe vissuto Una vita felice Grazie alla presenza Del Signore Gesù Cristo Il loro Tramite questo gruppo Questi rimanenti Il Signore Innalzò La sua chiesa Ma non una chiesa fisica Ma una chiesa Spirituale Nei loro cuori Cominciò Ad insegnare Il Signore Come insegnò Alla Samaritana La Samaritana Chiedeva Signore Gesù Cristo Dov'è che dobbiamo Adorare Dio Qui a Gerusalemme Nel Tempio O sul monte Il Signore Disse no Arriverà il giorno In cui Né qui In Gerusalemme Né in Samaria Si adorerà Dio Perché Dio È uno spirito E come tale Sarà adorato In spirito E in verità Così rispose Gesù Alla Samaritana Disse Il mio Tempio Sarà un Tempio Non costruito Dalle mani D'uomo Con materiali Non sarà un Tempio Fisico Non più Diceva così Il Signore Agli Apostoli Quando gli Apostoli Dicevano Ma guarda il Tempio Guarda il Tempio Di Gerusalemme Com'è Guarda gli edifici Ma il Signore Disse loro Arriverà un giorno Che non rimarrà Nessuna pietra Di questi edifici Saranno tutte macerie Perché Lui Già sapeva Che sarebbe arrivata Nuovamente una guerra Che avrebbe distrutto Il Tempio E poi nessuno L'avrebbe più ricostruito Perciò Il Signore diceva Il mio Tempio Adesso È spirituale Perciò qui Il Messia Il Signore Fece Il suo lavoro Cioè Di parlare Di convertire Quel gruppo Di rimanenti E Lui stesso Proviene Da questo gruppo Di rimanenti Protetti Da Dio Poi Gesù Cristo Comincia a predicare A questo gruppo Di rimanenti Che si convertono Al Signore E noi abbiamo Gli Apostoli Come esempio Perciò questa È l'opera Gloriosa Di questo Re giusto Perfetto Di cui parla Il verso 5 Infatti qui dice Ecco I giorni vengono Dice l'Eterno Nei quale susciterò A Davide Un germoglio giusto Che regnerà Da re Prospererà Ed eserciterà Il giudizio E la giustizia Nel paese Benedetto Il nome del Signore Adesso passiamo In sofonia E vediamo Cosa ci dice Riguardo A questo gruppo Di rimanenti Sofonia È un profeta È un breve libro È un libro breve Che Si trova Dopo Abacu Grazie Grazie Sofonia Anch'io mi sono persa Penso che anche voi Sofonia Era un profeta E leggiamo Il capitolo 3 Qui Il profeta Sofonia Stava profetizzando Alla pari Di Geremia Cioè Cioè Quando il profeta Geremia Stava profetizzando Contemporaneamente C'era anche Il profeta Sofonia Perciò Il Signore Inviava Il messaggio Al popolo Tramite Questi profeti E in Sofonia E in Sofonia Capitolo 3 Verso 11 Dice In quel giorno Non avrai più vergogna Di tutte le tue azioni Con le quali ti sei ribellata Sta parlando Sta parlando alla Gerusalemme Spirituale A quella Che si sarebbe formata Dal gruppo residuo E dice Ripeto In quel giorno Non avrai più vergogna Cioè Quando il Signore Si sarebbe manifestato A formare La sua Chiesa Spirituale Di tutte le azioni Con le quali ti sei ribellata Contro di me Quindi non avrai più vergogna Delle tue azioni Di quello che hai fatto Quando arriverà Il Messia Perché allora Farò allontanare Dal tuo mezzo I tuoi superbi Orgogliosi E tu cesserai In inorgoglirti Sul mio monte santo 12 Farò rimanere In mezzo a te Un popolo Umile E povero Che confiderà Nel nome dell'Eterno Che bello Dice Farò rimanere In mezzo a te A te Gerusalemme Celestiale Della Chiesa Della congregazione Un popolo Umile E povero Ma non in denaro Ma umile Nel cuore Povero Perché mancava Di conoscenza Della dottrina Ma desideroso Di conoscerla E perciò Questo gruppo Avrebbe confidato Nel Signore Nell'Eterno 13 Il residuo Cioè il gruppo Di rimanenti Questo Popolo Umile E povero Che confiderà Nel nome Dell'Eterno È il residuo È il gruppo Rimasto E non commetterà Iniquità Quindi peccato E non dirà Più menzogne Né si troverà Nella loro bocca Lingua ingannatrice Sta parlando Dei credenti Della Chiesa Del Signore Poiché Essi Pascoleranno E si coricheranno E nessuno Li spaventerà Perché Perché quel gruppo Di rimanenti Avrebbe vissuto Una vita retta Perfetta Non avrebbe più Praticato il peccato Perché il Messia Il Salvatore Sarebbe rimasto Con quel gruppo Concedendo loro Dei cuori nuovi Facendo Rinascerli Di nuovo Proprio come Nicodemo Disse Il Signore Gesù Cristo Cosa posso fare Per ottenere La vita eterna E Gesù Gli disse Deve rinascere Di nuovo Dallo Spirito Deve avere Un cuore nuovo Mentre Nicodemo Pensava che doveva Rinascere dal grembo Di sua madre Ma il Signore Gli disse No Deve rinascere Dallo Spirito Cioè Devi credere Nel Salvatore Non devi peccare Questo È quello Che ti sto dicendo Devi rinascere A livello spirituale Ed è quello Che è successo A questo residuo A questo gruppo Di rimanenti Nei quali Non si sarebbe trovata Una lingua ingannatrice Tutti avrebbero Dormito In pace E non si sarebbero Spaventati Gloria al Signore 14 Manda grida Di gioia O figlia di Sion Cioè Si sta riferendo Alla Chiesa Manda grida D'allegrezza O Israele Sempre la Chiesa Questa Figlia di Sion È la stessa Israele Rallegrati Ed esulta Di tutto cuore O figlia di Gerusalemme Ma non si riferiva Alla parte fisica Ma ai credenti Del Signore A quel gruppo Di rimanenti Che avrebbero Gioito nel Signore Avrebbero Lodato Il Signore Perché? Perché il Signore Ebbe misericordia Di questo gruppo Di rimanenti Che fu perdonato Per compiere la sua promessa Se il Signore Non avesse Protetto Questo gruppo Noi oggi Non esisteremmo qui Davanti alla presenza Del Signore Tantomeno Staremmo godendo Dello Spirito Santo E dei doni spirituali Non staremmo godendo Della guida Del Signore E noi Ringraziamo il Signore Per la sua misericordia Passiamo a Zaccaria Capitolo 8 Che si trova Dopo Sofonia Troviamo Aggeo E poi Zaccaria Capitolo 8 Verso 11 Anche qui si parla Del futuro E dice Ma ora Non sarò più Con il residuo Di questo popolo Come sono stato Nei tempi passati Sebbene Il Signore Era arrabbiato Con il gruppo Di rimanenti Perché Anche questo gruppo Aveva peccato Tuttavia Non li castigò Come castigò Il popolo Di Israele Quindi dice Nel verso 11 Ma ora Non sarò più Così severo Con il residuo Di questo popolo Come sono stato Nei tempi passati Quando il Signore Castigò Tutto il popolo Di Israele Anche il gruppo Di rimanenti Perché anche essi Furono portati A Babilonia Come schiavi Però Da lì in poi Il Signore Non trattò più male Il gruppo Di superstiti Come fece Con il popolo Di Israele In passato 12 Poiché vi sarà Un seme di pace Cioè il Signore Gesù Cristo La vite Darà il suo frutto Il suolo Darà i suoi prodotti E i cieli Daranno la loro rugiada Ecco Arrivano le benedizioni Di Dio Farò entrare Il residuo Di questo popolo In possesso Di tutte queste cose Meraviglioso E avverrà Che come foste Una maledizione Fra le nazioni Perché Perché questo gruppo Rimasto Sparso in tutte le nazioni Prima di essere Ricongiunto Dal Signore Era una maledizione Per le altre nazioni E dice E avverrà Che come foste Una maledizione Fra le nazioni O casa di Giuda E casa di Israele Così quando vi salverò Sarete una benedizione Vedete Questa Era Una benedizione Per il gruppo Residuo Apparentemente Sembrava una benedizione Per il popolo Di Israele E invece no Era per quel gruppo Di rimanenti Al quale sarebbe stato Predicato Il Vangelo Che bella La parola del Signore E per ultimo Cerchiamo Passiamo al Nuovo Testamento Cerchiamo Il libro Di Romani Romani Capitolo 11 Verso 1 In Romani 11 Verso 1 Dice Qui parla L'Apostolo Paolo Stava parlando L'Apostolo Paolo Che dice Io dico dunque Ha Dio rigettato Il suo popolo Il suo popolo Di Israele Di Giudei Dio ha rigettato Il suo popolo Così non sia Cioè No Perché noi stiamo vivendo L'era del Vangelo Del Messia Noi stiamo vivendo Il Signore Gesù Cristo Quando Lui è apparso Ha predicato A quel gruppo rimasto Quel gruppo Che per primo Credette Nel Signore Gesù Cristo E quel gruppo Fu riscattato E noi proveniamo Da quel gruppo Di rimanenti E Paolo voleva spiegare Chi erano Questi rimanenti E dice Io Dico dunque Ha Dio rigettato Il suo popolo Così non sia Perché anch'io Sono israelita Della progenie di Abramo Della tribù di Beniamino Dio non ha rigettato Il suo popolo Che ha preconosciuto Non sapete voi Ciò che la scrittura Dice Nella storia di Elia Come egli Si rivolge a Dio Contro Israele Dicendo Signore Hanno ucciso I tuoi profeti Vi racconto La storia Di Elia Profeta Elia Che visse Nell'epoca Del re Fu perseguitato Dal re Gerobamo Dal re Acab Da sua moglie Cezzabele Perseguitavano E cercavano Il profeta Elia Per ucciderlo Nel cercare Elia Però Uccisero Più di cento Profeti Che furono Massacrati I profeti Del Signore Perciò Quando Elia Si rese Conto Fuggì Si nascose In una caverna Perché disse Hanno ucciso Più di cento Profeti Adesso mi stanno Cercando Per togliermi La vita Sono rimasto Solo io Tutti sono morti Perciò Elia Si nascose In una caverna E lì Lui voleva Lasciarsi morire Ma lì Dio gli parla E gli dice Cosa stai facendo Elia Elia parla Al Signore E gli dice Signore Nel verso 3 Signore Hanno ucciso I tuoi profeti E hanno distrutto I tuoi altari E io Sono rimasto Solo Ed essi Cercano La mia vita E il Signore Risponde A Elia E gli dice Nel verso 4 Ma che gli disse La voce divina Dice il Signore Io Mi sono riservato Settemila uomini Dice il Signore A Elia Non ti preoccupare Perché questi Settemila uomini Non hanno piegato Il ginocchio Davanti a Baal Cioè a questo idolo Ci sono settemila uomini Che io Ho riservato Questo è il gruppo Di residuo Questo è il gruppo Di rimanenti Che io sto proteggendo E non permetterò Che questo gruppo Diventi idolatra Non ti preoccupare Elia Tu non sei solo Dice il Signore A Elia Esci da questa caverna E porta il messaggio Profetico A il Re E Elia Dovette Ubbidire al Signore E fare questo lavoro Poi l'Apostolo Paolo Continua a parlare E dice Che Dio Non aveva rifiutato Del tutto Il suo popolo Soprattutto Nell'era del Vangelo Perché? Perché il Signore Si riservò Questi Settemila uomini Che non furono Idolatri Anche oggi Il Signore Ha il suo gruppo Di rimanenti E continuiamo A leggere Nel verso 5 Così dunque Anche nel tempo presente E' stato lasciato Un residuo Secondo L'elezione Della grazia Non tramite La legge di Mosè Ma tramite La grazia di Dio Il suo Vangelo Quindi vediamo Che Dio Usò Quel gruppo Di rimanenti Per far venire Il Signore Gesù Cristo Il Messia Il Salvatore E oggi Poi Questo gruppo Siamo noi Questo gruppo Di rimanenti Convertiti E dice nel verso 5 Può leggere lei Fratello Alvaro Che non ho la voce Grazie Così dunque Anche nel tempo presente E' stato lasciato Un residuo Secondo L'elezione Della grazia E se è per grazia Non è più per opere Altrimenti la grazia Non sarebbe più grazia Ma se è per opere Non è più grazia Altrimenti l'opera Non sarebbe più opera Perciò Fratelli Qui abbiamo La spiegazione Dell'Apostolo Che dice Che anche oggi C'è un gruppo Di rimanenti Scelti Per grazia Da Dio Cioè Tramite Il Vangelo Tramite la fede Del Signore Gesù Cristo Non più per opere Che era la legge Di Mosè Ma per grazia Che è il Vangelo Del Signore Gesù Cristo La fede I rimanenti D'oggi Sono riservati Dal Signore Gesù Cristo Provenienti Dal popolo Di Israele Dai Giudei Questi rimanenti Si salveranno Unicamente Tramite il Vangelo Del Signore Gesù Cristo Questo è quello Che l'Apostolo Qui Sta spiegando E dice Nel 7 Che dunque Israele Non ha ottenuto Quello che cercava Ma gli eletti L'hanno ottenuto Cioè I rimanenti L'hanno ottenuto Mentre Israele Che cercava Di praticare La legge Di Mosè Non riuscì Ad ottenere La salvezza Mentre Gli eletti Si Otterranno La salvezza Cioè I credenti In Cristo Che sono gli eletti Otterranno La salvezza E loro Saranno Quel gruppo Di rimanenti Scelti Tramite la grazia Divino Non per aver compiuto La legge Di Mosè Mentre gli altri Dice Tanto Giudei Come gli Israeliti Dice E gli altri Sono stati Induriti E dice nel verso 8 Come sta scritto Dio Ha dato loro Uno spirito Di stordimento A chi Agli Israeliti Ai Giudei Che stavano Compiendo La legge Di Mosè O credevano Nella legge Di Mosè Cercavano Di compierla E Dio Ha dato loro Uno spirito Di stordimento Occhi per non vedere E orecchi per non udire Fino a questo giorno Dice l'Apostolo Facendo capire Fino All'arrivo Del Vangelo E della sua Predicazione E nel verso 9 Dice E Davide dice La loro mensa Diventi per loro Un laccio Una trappola Un intoppo E una retribuzione Siano oscurati I loro occhi Da non vedere E piega loro La schiena Di continuo Ma a chi Si stava Riferendo Si stava Riferendo Agli Israeliti O ai Giudei Che si Ribellarono E non Vogliono Accettare Il Vangelo Del Signore Gesù Cristo Però Il Signore Aveva fatto Una promessa E Lui Doveva portarla Avanti Tramite Il gruppo Di rimanenti Così come Nell'antichità Dio ha scelto Questo gruppo Di rimanenti Così lo fa Anche oggi Oggi C'è ancora Questo gruppo Di rimanenti Che dura Da duemila anni A questa parte Grazie alla predicazione Del Vangelo Da duemila anni A questa parte Tante persone Tra giudei Israeliti I gentili Si sono convertiti Al Vangelo E questo È il nuovo Gruppo Di rimanenti Quindi voi Trovate nella Bibbia Questa frase Il residuo Il residuo Cioè quel gruppo Che Dio Preservò Per portare a compimento La sua promessa In futuro Tramite questo gruppo Sarebbe arrivato Il Signore Gesù Cristo E la sua Chiesa Tutti gli altri Tutti i ribelli Furono induriti Nel cuore Rendendoli ancora Più increduli Bene Vi chiedo scusa Per oggi Però io Ho un problema Con l'aria condizionata Non è la prima volta Che mi succede L'aria condizionata Danneggia molto La mia gola Perciò Per favore La prossima volta È meglio Non accendere L'aria condizionata Bene So che Mi scuserete Adesso preghiamo Il Signore E chiediamo a Dio Che ci aiuti Chiediamo Al Signore Di guarire Le persone malate Chiediamo Al Signore Di liberare Le persone Che sono Legate da spiriti Maledizioni Stregonerie Perché mi scrivono Tanto riguardo a questo Ci sono Tante malattie Incurabili Ci sono Bambini malati Perciò Preghiamo Per tutto questo Perché Mi raccontano Di tutte le sofferenze Che vivono Ricordiamoci Che noi Dobbiamo avere fiducia In Dio Chiedere a Dio Ci sono persone Che mi dicono Io scrivo a lei Perché Sono stanca Di pregare Perché il Signore Non mi ascolta Ma il Signore Non è che non ascolta Raccontano tutto a me Ma io cos'è Che posso fare Posso chiedere Al Signore Di avere misericordia Quindi oggi Facciamo una preghiera Generale Per tutti Però voi Nello specifico Chiedete al Signore Quello di cui Avete bisogno Raccontate Delle vostre necessità Malattie Della stregoneria Delle maledizioni Vi consiglio Voi che vivete In casa Con familiari Che hanno I doni spirituali Vi consiglio Di ricevere Imposizioni Delle mani Per essere liberati Da queste stregonerie Da queste maledizioni Da queste malocchi Soprattutto Se avete problemi Di stregoneria Chiedete Al Signore Di riprendere Questi spiriti Però voi Dovete Far qualcosa Non rimanere così Ma acclamare Il Signore E aver fiducia Che Dio Vi sta ascoltando E vi libererà Perciò Adesso Preghiamo Per le richieste E per le necessità Benedetto Dio Onnipotente Padre Santo Signore Nel nome di Tuo Figlio Gesù Cristo Di Nazareth Ci presentiamo Davanti a te In questo momento Per porre Davanti a te Tutte le necessità Spirituali E materiali Guarda Signore Tutta la sofferenza I dolori Tutte le amarezze Le tribulazioni Che la gente Sta soffrendo Nel mondo La gente Soffre Sia per malattie Fisiche Malattie Incurabili Malattie Che la stessa Medicina Non riesce A guarire E poi ci sono Anche persone Che soffrono Di stregonerie Maledizioni Malocchi E io ti chiedo Signore Di stendere La tua mano Di avere misericordia Di ascoltare Queste persone Che ti pregano Ascoltale Signore Ascoltale Le loro preghiere Guarda Signore Le loro afflizioni Le loro malattie E abbi misericordia Abbi misericordia Signore Perché Siamo Circondati Dal male Dal maligno Lui è sempre Contro di noi Per darci fastidio Per farci soffrire Per danneggiarci Affinché noi Perdiamo la fiducia In te Benedetto Dio Onnipotente Aiutaci A confidare In te E a riprendere Il maligno Aiutaci Signore E alza la tua Mano potente Stendila Su ogni persona Ogni uomo Ogni donna Anziano Bambino Bebè Neonati O Bambini Ancora nel grembo Che sono malati Che soffrono Ti chiedo Signore Di avere misericordia Che tu possa guarire Liberare Spezzare catene Lacci Schiavitù Distruggi L'opera del maligno Spezza Queste catene Signore Inoltre ci sono Delle necessità Materiali Perché ci sono Tante persone Che hanno Dei debiti Tante persone Non hanno Un lavoro Non hanno Una casa A causa A causa della Pandemia Stanno Inoltre Soffrendo Tanta Miseria Padre Santo Stendi la tua Mano E riprendi Queste piaghe Riprendi Tutto questo Male Distruggi L'opera Del maligno E spezza Le catene E libera Signore Sì Signore Tu solo Puoi risolvere Questa questione I problemi Delle persone E ti chiedo Signore Di benedire Ognuno Di loro Apprendo Porte Di benedizioni Materiali Come il lavoro Aiutali Signore A risolvere I loro problemi Di debiti Provvedi loro Il denaro Il cibo Il vestito Tutto quello Di cui La gente Ha bisogno E che ti chiede In preghiera Libera Signore Grazie Signore Per ascoltare La nostra preghiera Grazie Per ascoltarci Grazie Signore Per le promesse E per le benedizioni E per i miracoli E per le guarigioni Che tu hai fatto A tante persone E per le tue manifestazioni Padre Santo Rivela Rivela E insegna Il cammino retto Alle persone Attraverso i sogni Visioni Concedi rivelazioni Signore E aiuta Le persone A sentire pace E gioia Per andare avanti Perché ci sono tante persone Che hanno il desiderio Di togliersi la vita Riprendi questo spirito Questo spirito brutto E libera queste persone Nel nome di Gesù Cristo Di Nazareth Grazie Signore Grazie Signore L'onore La gloria E le lodi Siano per te Benedetto il Signore Per sempre Adesso cantiamo Il coro Gesù è qui Cantate voi Perché io non riesco A cantare Coro numero 16 Gesù Cristo È qui Quindi Quindi potete cantare Al Signore Coloro che sono qui Con me Che mi aiutino Gesù sta qui Pide lo che Chieras Gesù sta qui Pide lo che Chieras Gloria al Signore Ringraziamo Dio Chiedere al Signore Quello che desideriamo E crediamo Che il Signore Ci concederà Quello che desideriamo Secondo la sua volontà Che Dio vi benedica Diamo con tutto il cuore Tanti baci Per i bambini Bene Dio vi benedica Grazie